Buongiorno, sono Silvia Cegni, sono venuta qui in Sicilia, siamo invitati da ICE, distretto Agrumi di Sicilia, che anzi volevo tantissimo ringraziare per un bellissimo viaggio. Sono venuta qui con una delega, i miei colleghi delle ditte, dalla Polonia. Io rappresento una ditta, siamo importatori, frutta, la verdura, la ditta Greek Trade, con una siede a Cracovia. Abbiamo visitato qualche aziende italiane che fanno agurumi, l'arancia rossa di Sicilia, che è una cosa molto interessante per noi in Polonia, che vogliamo cominciare a commercializzare questo frutto.